ok credo che già siamo in diretta e allora come stai notando innanzitutto scusami benvenuta benvenuto se è la prima volta che ci stai seguendo bentornato bentornato se già ci segui da tempo in questa quarantunesima diretta live ci occuperemo per quanto riguarda il binario superonda con montaggio a soffitto quindi come procedere per il montaggio ovviamente per tutti i clienti che già l'hanno richiesto che l'ha ricevuto già stamattina stesso come la nostra cliente e roberta così come la nostra cliente ornella che hanno diciamo già scelto questo binario superonda che permette ovviamente ora capiremo come installarlo a soffitto e avere così un effetto onda molto elegante sia che l'ambiente sia classico ovviamente moderno o contemporaneo quindi questo ha solo diciamo la funzione di essere installato a soffitto e in questa proprio diretta in particolar modo serve più che altro per dare ecco delle indicazioni qualora ovviamente tu hai che effetto il montaggio e così come diciamo lo spieghiamo ai nostri clienti attraverso diciamo le video dirette che diciamo permetto ecco anche a coloro che lo richiedono da lontano come poter procedere per l'installazione e allora innanzitutto iniziamo a conoscere che questo binario qua come stai notando ha ovviamente la parte frontale e la parte quella che è dietro per riconoscere questa situazione ti accorgerai appena diciamo lo ricevi che da questo lato è arrotondato mentre dal lato diciamo opposto quello che va verso il muro è piatto infatti come stanno tanto vedi qua questo diciamo piccolino gancio questo non è altro che la chiavetta che adesso attenzioniamo che il supporto che ci permette di installarlo a soffitto quindi procedendo come abbiamo detto tu ti ritrovi questo binario qua modello onda ecco qua un attimo che faccio scivolare ecco qua gli scivoli ok vedi dove in questo binario a differenza diciamo di quello piatto quello quadro ha una sola bandierina quindi dal lato diciamo dell'apertura come ho già detto in altre puntate io consiglio una raccolta della tenda quindi per intenderci aprire la tenda quindi raccolta della tenda verso sinistra verso sinistra perché perché le ante in generale si aprono tutte verso destra in questo modo tu avrai un sistema pratico di spostare la tenda verso sinistra aprire l'anta e ritornare la tenda davanti diciamo l'anta con l'anta aperta senza dover fare necessariamente il salto della tenda quando si trova dietro l'anta quindi detto questo continuiamo come ti stavo dicendo quindi questo è il binario che da questo lato qua sarebbe il frontale quello che va verso diciamo l'interno della camera e da questo lato qua è quello che va invece verso il muro nel caso in cui non hai il cassonetto o verso il cassonetto nel caso in cui hai il cassonetto quindi abbiamo un angolo squadrato e diciamo un angolo arrotondato ok bombato quindi ora iniziamo a capire i vari diciamo le varie situazioni che ti puoi ritrovare qualora tu partiamo da chi ha ovviamente un cassonetto quindi dal momento in cui tu hai un cassonetto come ho sempre detto generalmente sconsigliamo di mettere quella che è l'onda perché prende il suo spazio ma nel caso in cui entrando nella tua camera il cassonetto si trova di fronte e difficilmente si può andare lateralmente quindi diciamo i lati vengono comunque nascosti allora in quel caso si può anche inserire questo sistema qua quindi una volta diciamo installato dal soffitto procediamo adesso come fare quindi se tu hai un cassonetto dal cassonetto ti devi spostare quindi spostare di due centimetri due centimetri in modo che diciamo questo bordo al bordo del cassonetto siamo distanti due centimetri allora capiremo perché e poi successivamente ti dirò anche quanto bisogna distanziarsi se non hai il cassonetto quindi se hai il cassonetto partiamo da questa diciamo situazione qua quindi dal momento in cui tu ti distanze due centimetri a questo punto puoi installare il supporto prendiamo il nostro metro quello a rullina che generalmente utilizzo ovviamente nelle mie dirette quello tradizionale quella a rullina perché diciamo è molto pratico comodo e ci permette in ogni caso di avere una misura più netta quindi dal momento in cui ci siamo allontanati due centimetri come stai notando vedi questa è la chiavetta come funziona la chiavetta la chiavetta funziona se noi la giriamo in senso anti orario si apre la chiavetta ok ecco qua se no invece la girami in senso orario si chiude la chiavetta un po come il tappo tipo della bottiglia ovviamente a chiudere vai in senso orario anti orario va ad aprire quindi così per darti delle indicazioni molto facile in modo che non lo dimentichi a questo punto noi cosa dobbiamo fare dobbiamo misurare dalla parte del bordo fino al centro del del foro quindi del nostro supporto e abbiamo quattro centimetri e mezzo quindi abbiamo detto che se hai un cassonetto ti devi distanziare due centimetri quindi il foro va fatto dal cassonetto a sei centimetri e mezzo perché quattro e mezzo si trova la distanza che abbiamo detto dal bordo fino a qua più due centimetri che ci dobbiamo distanziare dal cassonetto quindi dobbiamo fare il foro a sei virgola cinque centimetri dal cassonetto di profondità a questo punto dove va messo il quello che diciamo il gancio a scomparsa quindi la chiavetta se noi abbiamo per esempio come questo qua questo è un binario di un metro e trentanove dopo capiremo anche per quanto riguarda la misura che è fondamentale se non diciamo centrale affinché diciamo l'onda ti permette un'onda perfetta quindi a questo punto noi abbiamo un metro e trentanove ci dobbiamo distanziare da quello che diciamo la parte diciamo finale quindi dal terminale che sarebbe un tappo come in questo caso noi ci siamo distanziati venticinque centimetri ti puoi distanziare anche quindici centimetri quindi va regolato perché poi un supporto viene messo da questo lato l'altro supporto viene messo dall'altro lato per una misura di un metro e trentanove se la misura è più grande ne troverai anche tre supporti come questi che vanno distanziati in modo equo in modo che così vengono ben messi sul nostro soffitto quindi una volta che ti sei distanziato due centimetri dal cassonetto più i 4 centimetri e mezzo dove c'è il foro a quel punto puoi fare il foro una volta diciamo fatto il foro quindi nel nostro soffitto la chiavetta una volta diciamo che viene inserita qui abbiamo una rondellina che ti permette che questa chiavetta diciamo giri ok in senso circolare quindi una volta diciamo installata quindi molto semplice quindi un tassello da 6 uno stop in alcune parti d'italia o il fisher che sarebbe la marca del tassello quindi da 6 come misura sarebbe 6 millimetri quindi lo installi tranquillamente nel tuo soffitto un solo tassello va bene quindi dal momento in cui questo già tu immagina che sia installato come ti ho appena detto nelle distanze che ti ho detto col cassonetto a questo punto non ti rimane che chiuderlo vedi in senso orario vai a chiuderlo ecco qua e così a questo punto è agganciata al nostro binario e quella diciamo la parte della nostra chiavetta sarebbe in questo caso verso l'interno quindi verso il cassonetto e dalla parte esterna estetica tu non vedi nulla così come è successo nelle foto che ho pubblicato ieri come hai potuto notare messo al soffitto tu ti troverai questo lato qua bel diciamo raffinato che soprattutto si mimitizza col soffitto perché è bianco qualora tu hai un soffitto che è raro nel caso ce l'hai fatto col grigio c'è anche in questo modo qua la variante col grigio quindi questo è il procedimento per quanto riguarda se c'è il cassonetto nel caso in cui è successo anche con una cliente che c'è il termosifone quindi ti sposti sempre dal termosifone più i 4 centimetri e mezzo perché questo ti permette come abbiamo detto diciamo la distanza che c'è tra il bordo e il centro del nostro buco se invece non hai cassonetto e qui diciamo che viene il bello in un certo senso dalla parete e quindi non avendo noi cassonetto quindi dalla parete bisogna distanziarsi 4 centimetri perché 4 centimetri? perché 4 centimetri ci permette di poter far girare la nostra chiavetta se lo fai di meno quindi tipo 2 centimetri c'è il rischio che la chiavetta non gira e quindi non hai la possibilità di agganciarlo quindi a questo punto se col cassonetto ci allontaniamo 6 centimetri e mezzo senza cassonetto dalla parete ci allontaniamo 8 centimetri e mezzo 8 centimetri e mezzo perché 4 sarebbero dalla parete fino al bordo del nostro binario e 4 centimetri e mezzo questo sarebbero dal bordo del nostro binario fino al centro del nostro foro che dobbiamo fare sul soffitto ricordo che l'installazione questa è sola esclusivamente a soffitto non si può avere a parete quindi abbiamo capito in questi 5 minuti che per quanto riguarda il cassonetto ti devi distanziare 2 centimetri più i 4 centimetri e mezzo se invece non hai il cassonetto ti devi distanziare dal muro 4 centimetri più i 4 centimetri e mezzo sono 8 centimetri e mezzo e a questo punto non devi fare altro che prendere la chiavetta girarla in sensorario per chiuderla e così hai installato il tuo binario modello onda a questo punto questo binario qua risulta essere mimetizzato col nostro soffitto quindi difficilmente che diciamo visibile all'occhio che darebbe l'impressione come se la tenda scorrerebbe sul soffitto molto bella molto elegante infatti già li stiamo montando questo ora poi li vedrai prossimamente come che venga